Buonasera amici di Teleiride, bentornati all'appuntamento con T-Sport. Anche in questo venerdì 3 febbraio 2017 torniamo a informarvi per quanto riguarda lo sport della regione toscana e della provincia di Firenze, cominciando ovviamente come di consueto dalla Fiorentina e dal nostro TG Viola, un TG Viola all'interno del quale parliamo della partita di martedì. Viola saranno all'Olimpico per affrontare la Roma in un match cruciale per la corsa alle posizioni europee all'interno del nostro TG Viola. Però riproponiamo anche un estratto dell'intervista a Telegram all'ex vicepresidente della FIGC Innocenzo Mazzini. Innocenzo Mazzini che parla delle prospettive europee della Fiorentina, per lui prospettive che ogni anno dovrebbero essere di Champions. E poi parla anche dello stadio, ma dice che non è tutto, non può essere il motore per la Fiorentina di domani. Sentiamo allora nel nostro TG Viola il servizio dedicato alla partita contro la Roma e poi le parole di Innocenzo Mazzini. Arriva il ventitresimo turno di Serie A e la Fiorentina si prepara ad un fine settimana particolare. I Viola, infatti, dopo aver affrontato mercoledì sera il recupero della diciannovesima giornata di campionato contro il Pescara, non scenderanno in campo questo fine settimana. Il prossimo impegno in campionato per la squadra di Sosa cadrà nella data di martedì 7 febbraio e vedrà i Viola affrontare la Roma. All'andata, la squadra di Paolo Sosa vinse il match contro la squadra di Spalletti con un 1-0 firmato da Milan Badel. Una vittoria che per certi versi sorpresa in positivo vista la forza della Roma. Una Roma che i Viola dovranno provare a battere anche nel girone di ritorno, sebbene stavolta i giallorossi avranno dalla loro il fattore campo. La Fiorentina, nella sua rincorsa alle posizioni europee, però non si può permettere passi falsi e anzi dovrà provare a replicare quanto fatto dalla Sampdoria la scorsa giornata di campionato, quando i blucerchiati hanno battuto 3-2 dei giallorossi, reduci da quattro successi consecutivi in campionato. La Fiorentina, in casa della Roma, certo non può vantare una tradizione estremamente positiva, avendo vinto solamente in 16 occasioni su 83 confronti romani. L'ultima volta che Roma e Fiorentina si sono incontrate all'Olimpico, ovvero nello scorso campionato, il 4 marzo 2016, furono propri capitolini ad imporsi 4-1 e a vendicare le eliminazioni da Coppa Italia e Europa League, arrivate per mano della Fiorentina nella stagione 2014-2015. Se la tradizione romana della Fiorentina non è tra le migliori, Paolo Sosa potrà comunque consolarsi con la possibilità di schierare Astori e Bernardeschi, assenti per squalifica nell'ultimo match giocato a Pescara. Il portoghese potrebbe inoltre recuperare dal primo minuto Nicola Kalinic e Federico Chiesa, giocatori che potranno dare qualcosa in più alla Fiorentina. I Viola, strappando tre punti alla Roma, potrebbero portarsi a quota 40 in classifica e in caso di risultati favorevoli agganciare anche quella Lazio, che attualmente quinta è la prima delle squadre in zona europea. La Fiorentina ha tutte le qualità per lottare sempre per la Champions, io ne sono convintissimo di questo, perché la Fiorentina ha un ambiente così appassionato, così unito e così di grandi tradizioni nel settore giovanile e di società, che rappresenta Firenze, ma Firenze è conosciuta nel mondo dal nord a sud, dall'Arctico all'Antartico, per cui non capisco perché si debba sempre pensare in piccolo. In questa città dobbiamo pensare in grande. La Fiorentina ha tutte le qualità per poter giocarsi sempre un posto di champion. Non capisco perché lo debba fare l'Atletico Madrid e non la Fiorentina. Io me lo auguro che ci sia uno stadio accogliente, ci sia uno stadio dove si possa stare veramente bene e a godersi di un bello spettacolo, però il problema resta sempre il bello spettacolo. Cioè ricordatevi che prima di tutto viene il momento tecnico, cioè noi dobbiamo produrre buon calcio, allora le persone sono attirate perché vanno a vedere un buono spettacolo e per fare buon calcio ci devono essere che i protagonisti che sono sul campo siano buoni giocatori. Non si risolve il problema tecnico con lo stadio nuovo. Questo sia chiaro, non è che dice ora ci sarà lo stadio nuovo, si giova tutti bene e tutti verranno contenti e felici. No, il problema resta sempre prioritario quello tecnico. Bisogna presentare buoni giocatori che fanno buon calcio, preferibilmente tanti giocatori che vengono dal settore giovanile. Lo dimostra oggi la Fiorentina che ha tre ragazzi di grande valore che sono Chiesa, Babacar e Bernardeschi. Questi tre giocatori che vengono dal settore giovanile hanno il senso dell'appartenenza, sono buoni giocatori, hanno dei sentimenti assolutamente positivi verso la società e per cui daranno sempre qualcosa in più. Se noi riusciamo a far passare questo trend culturale, che è stato il grande dramma di questi ultimi 10-15 anni, dove si pensava di comprare all'estero e fare grandi affari. Non si fa così, il calcio si fa tramite, facendo grandi settori giovanili. Solo così non si fanno debiti e si fanno dei buoni spettacoli. E parliamo adesso di Empoli. La squadra di Martuscello si prepara alla gara di domenica alle 15 contro il Torino. Nella giornata di ieri però è stato presentato alla stampa il nuovo acquisto in casa azzurra. Omar Erkaduri, che ci andiamo a ascoltare in un estratto proprio della sua conferenza stampa. Sono molto contento di venire qua a Empoli. Avevo tanta voglia di giocare perché questo ultimo anno e mezzo ho giocato poco e sono arrivato a un'età di 26 anni che adesso l'importante è giocare. Penso che questa è la società perfetta dove posso far vedere tutto quello che posso fare. L'impatto è stato positivo. Avevo già sentito, avevo parlato con Tonelli, con Val di Fiori, e mi avevano già parlato benissimo di questo gruppo. Infatti ieri mi hanno accolto benissimo. Poi sì, ieri mi sono allenato, però non ho fatto tutto, visto che ho viaggiato per due giorni, quindi ero un pochino stanco. So che qua il tipo di lavoro è un po' simile a quello a Napoli perché il mister Sarri ha lavorato qua, hanno lavorato insieme i due allenatori, quindi è una cosa positiva poter ambientarmi subito col tipo di lavoro della squadra. Sì, ovvio che fare il tecquartista è il mio ruolo principale, però da quando sono in Italia, che sono otto anni, l'ho fatto un anno, penso a Brescia. Quindi è ovvio che questo ha giocato molto nella mia scelta e adesso giocherò nel mio ruolo e spero di farlo bene, sono convinto di farlo bene, quindi come hai detto, questo ha giocato un ruolo importante nella mia scelta. No, è sempre bello giocare contro una ex squadra, poi li ho visti poco tempo fa, prima della sosta natalizia con Napoli. Come sto, come ho detto, ho viaggiato due giorni, ieri ero un po' stanco, questa notte mi sono riposato bene, penso che oggi sarò già meglio, poi il mister che deciderà cosa fare, però 90 minuti forse non li ho ancora, in nazionale ho fatto, ho giocato due volte 60 minuti, poi sentivo già un po' di stanchezza, ma come ho detto quest'anno a Napoli ho fatto 40 minuti in totale, quindi è normale che non sono ancora pronto, però piano piano tornerò a essere al 100%. Adesso andiamo a parlare di pallavolo femminile di Serie A1, salutiamo dunque il calcio della Serie A, torneremo a parlare di calcio poi con la nostra pagina dedicata al soccer femminile, adesso però spazio alla Serie A1 di pallavolo femminile che arriva in questo weekend alla sua quarta giornata del girone di ritorno, per la Savino del Bene sarà partita contro Montichiari e esordio per il neocoach Alessandro Beltrami, per quanto riguarda il Bisonte Firenze invece trasferta importante in ottica salvezza in casa del Saugella Team Monza. Tanto tu o no, che alla fine piove, i nuvoloni neri sulla testa di Chiappafreddo, che ne dicesse poche settimane fa il DS Toccafondi nei nostri studi, si erano addensati già da un po' e la sconfitta contro la Lugion Nord meccanica a Modena del terzo turno del girone di ritorno ha scatenato l'acquazzone sul coach nativo di Amelia. Chiappafreddo non è più l'allenatore della Savino del Bene da quattro giorni e l'ambiente scandiccese, dopo aver salutato un allenatore che ha lasciato il segno nella storia della Savino, si prepara con curiosità per il match di domenica alle 17, quando per la prima volta potrà osservare la squadra allenata dal neocoach Beltrami. Curiosità di giornata, Beltrami inizierà la nuova avventura contro Montichiari, la stessa squadra che aveva tenuto a battesimo anche Chiappafreddo dopo l'esonero di Bellano. Beltrami, per questo suo esordio in panchina, non potrebbe augurarsi altro che ripetere il risultato di Chiappafreddo. L'anno scorso, infatti, nel match casalingo contro Montichiari, la Savino del Bene si impose 3-0. Una vittoria da tre punti è quanto chiede il pubblico scandiccese e anche il patron Nocentini. Tutti nell'Interland fiorentino sono infatti convinti della bontà di una squadra che non si può accontentare dell'attuale sesto posto, tanto più ora che il quartetto di testa sembra in grado di innescare le marce buone per la fuga. La Savino del Bene, vincendo, potrebbe provare ad accorciare sulla cerchia dei top club e magari ottenere già questo weekend il quinto posto occupato da Busto Arsizio, che ha un solo punto di vantaggio da difendere, ma comunque potrà vedersela con un avversario non imbattibile come il Club Italia. Al di là del cambio in panchina, non sembra che il sestetto della Savino del Bene sia destinato a cambiare troppo, dunque, confermata Rondon al palleggio, con Avlicco vada a opposto. Al centro, spazio ad Adenisia e a Righetti, con in banda Miners e Cruz, e dal libero Enrico Merlo. Impegno casalingo delicato per la Savino del Bene, che dovrà adattarsi alle direttive di Beltrami, domenica alle 17 avrà un appuntamento cruciale anche il Bisonte Firenze. Le ragazze di Bracci, reduci dal successo al tie-break contro il Club Italia, continueranno il loro ciclo di scontri diretti, andando a far visita al Saugella Team Monza. Le Fiorentine sono nonne in classifica con 14 punti e alle loro spalle hanno proprio la formazione lombarda, staccata di due lunghezze. Vincere consentirebbe dunque al Bisonte di allungare sulle dirette inseguitrici e fare un bel passo avanti verso la salvezza, staccando peraltro una delle rivali per la corsa alla permanenza in Serie A1, che maggiormente si è rinforzata. Monza, infatti, durante il mercato di riparazione, ha impreziosito il suo roster con la polacca Berenica Tomsia, opposto top scorer dello scorso campionato di A1. Bracci, comunque, non dovrebbe avere problemi di formazione e punta sulle sue ragazze e sul suo classico sestetto. Bekis al palleggio, solo kite da opposto, al centro Calloni e Melandri, in banda la premiata ditta Bairamova e Heinreit, e come libero Beatrice Parrocchiale. E adesso parliamo di Fiorentina Basket e Pino Dragons, che già a partire dalla giornata di domani scenderanno in campo per il diciannovesimo turno del girone A di Serie B. Capitolo numero 19 del girone A della Serie B di basket alle porte per Fiorentina Basket e Pino Dragons. I Viola torneranno in campo domani alle 19, intenzionati a riscattarsi dopo la brutta sconfitta di una settimana fa, ovvero dopo il 92 a 59, subito in casa della Solbat Basket Golfo Piombino. La Fiorentina Basket attenderà una reazione dai suoi uomini chiave, in particolar modo da poltroneri, le cui medie sono crollate a picco nelle ultime tre gare giocate. L'ex GSA Udine viaggia a 15 punti di media, ma negli ultimi tre impegni di campionato non è mai andato oltre i sei punti segnati. Un'involuzione inspiegabile, che è coincisa con tre sconfitte che hanno fatto scivolare Viola in classifica. Se non bastasse la situazione poltroneri, comunque la Fiorentina Basket in questa settimana si presenterà orfana di Capitan Valentini. Tra il Capitano Viola e il subentrato coach Nicolai, infatti, non è scoccata la scintilla e adesso l'ala è finita sul mercato. Domani tutte queste inclinature non dovranno indebolire però la squadra del GM Fagotti, che si augura la sua formazione abbia ritrovato la forma del periodo tra novembre e i primi di gennaio e possa dunque impensierire la Almag PMS Moncalieri, formazione attualmente seconda in classifica, con otto lunghezze di vantaggio proprio sulla Fiorentina Basket. Se per i Viola della Palacanestro non è il miglior momento della stagione, se la passa decisamente meglio l'Enic Pino Dragons, almeno dal punto di vista della forma, dato che nelle ultime due gare di campionato la formazione allenata da coach Lapo Salvetti ha superato Cecina e la Virtus Siena, riaprendo il discorso salvezza, un traguardo che pareva irraggiungibile fino a poche settimane fa. Domani alle 20.30 per il Pino ci sarà un'altra occasione per migliorare la classifica. I fiorentini si affronteranno Varese e superandola potrebbero agganciare a quota 12 la Virtus Siena e Domodossola, frenando peraltro una Varese, pure lei, reduce da due successi consecutivi, ma che allo stesso tempo si trova appena sei punti avanti rispetto al Pino Dragons. E come promesso adesso parliamo della Fiorentina Women's di Sauro Fattori che in questo weekend, in particolar modo domenica alle 14.30, sarà chiamata ad affrontare la Iesina. Antivigilia di campionato per la Fiorentina Women's di Sauro Fattori, impegnata domenica contro la Iesina. Gara in programma da calendario ufficialmente domani, ma posticipata, mantenendo però lo stesso orario. Fattori ha il difficile compito di mantenere alta l'attenzione e la motivazione di un gruppo in testa alla classifica a pieni punti, a ben sei lunghezze dal Brescia secondo e nove dal Verona terzo, e con un ruolino di marcia da 46 gol fatti e solo quattro reti subite in 12 giornate giocate. Un rendimento da indiscussa ed unica protagonista del campionato, senza particolari duelli o rivali. La Fiorentina dovrà fare attenzione forse più a se stessa e a non sottovalutare mai l'avversario, ma la motivazione non mancherà invece tra otto giorni, quando è in programma il primo faccia a faccia a chiave nel girone di ritorno, la sfida contro Verona. Martedì invece le Viola riceveranno a Reggio Emilia lo scudetto di campione del primo tricolore per la sezione calcio famminile insieme alla Juventus per il maschile, premio destinato alle società che alla data del 7 gennaio presentavano il miglior punteggio nei campionati maschili e femminili italiani di calcio, pallacanestro, pallannuoto, pallavolo e rugby. Intanto, ben sette giocatrici tornano a vestire la maglia azzurra convocate dal CT Cabrini per il raduno della Nazionale Maggiore dal 12 al 15 febbraio al centro tecnico di Coverciano. Elisa Bartoli, Marta Carissimi, Alia Guagni, Elena Linari, Ilaria Mauro, Alice Parisi e Valeri Vigilucci. Le Viola vogliono la maglia azzurra ma anche lo scudetto e la via è quella giusta. E in chiusura ricordiamo che oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della settimana di Italia-Irlanda Under 20 per quanto riguarda il 6 nazioni appunto di categoria. Il 6 nazioni Under 20 che infatti toccherà anche il Comune di Prato oggi infatti nella sala giunta del Comune di Prato è stato presentato il programma di eventi pensato dal Gispi scusate Rugby Prato in preparazione della partita appunto del 6 nazioni tra Irlanda e Italia che si giocherà il 10 febbraio alle ore 19. Tanti eventi che cominceranno a partire da questa domenica ovvero da domenica 5 febbraio alle 10 con la Rugby and Carnival Run una corsa camminata non competitiva di 5 km che porterà appunto tutti quelli che vorranno partecipare attraverso il centro di Prato poi tanti altri eventi che arriveranno nel corso della settimana e che vi ricorderemo anche nel corso dei prossimi appuntamenti di T-Sport purtroppo però adesso siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione dunque da parte mia un saluto un augurio di buon weekend ovviamente appuntamento a lunedì quando torneremo a partire dalle ore 19 arrivederci a partire